Ciao a tutti ragazzi! Oggi giochiamo con Kars! Kars che si gonfia! Una macchinina Kars! Quante palline ci sono? Queste palline! Poi andare a gonfiare Kars! Eccolo! Devo gonfiare così non è gonfiato! Quante palline! Sì! Guarda quanto palline ci sono! Andate! Lì! Adesso ce lo vedo! Che bella mente! Questo è guidato! Oh ma posso giocare! È giusto! Non lo vuole! Ah! Che ballo! Che ballo! Che ballo! Che ballo! Che ballo! Oh no! Ciao, vedi da solo Guido! I miei peluche, i miei amici peluche Dove li porti di bello in giro? Li porto a vacanza Li porti in vacanza? Si, che vogliono stare in vacanza Guido, Guido! Guido, Guido! Allora, cos'è il camminiere? Adesso noi dobbiamo cambiare ruote Vai, cambia le ruote Si, ma metto queste cose Così le posso fargela Se non le metto, non le posso Ecco E' tutto in alto Aspetta Lo misuro Si, perfetto Adesso cambiamo le ruote Poc! 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 Fatto! Poc! 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 C'è questa tondola! Dove vai Gabi? Vai in vacanza? Sì, vado in casa. Non sta piovendo! Stai parlando! Mi fa girare! Vai piano che fai incidenti così, vai piano. No! Ma non volete! Se no... Se no si chiude la vacanza! Ecco ragazzi! Siamo arrivati in vacanza! A domani! Ciao! Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale!